è il momento di collegarsi con gli stati uniti con michele arrugani che per chi ci ha seguito nei giorni scorsi ci parla di palio un palio visto da lontano ma grazie al fatto di comunque essere stato ed essere nel mondo del palio di capirlo bene anche se solo tramite video telefonate messaggini whatsapp e quant'altro perché svelaci michele intanto ben arrivato grazie buongiorno a tutti svelaci che insomma stare lontano non vuol dire perdere i contatti no assolutamente soprattutto per chi sta lontano spesso mi accorgo ecco che per siena per siena abbastanza probabilmente succede anche nelle altre città ma quando uno si allontana da siena è andato via quasi per sempre io quando quando torno a siena la prima domanda che si trova qualche amico e o altro la prima domanda che mi rivolgono è quando quando riparti come sono arrivato ora cioè sì però ecco la lontananza comunque insomma grazie a internet è più facile seguire tenenze aggiornati c'è un sacco di notizie anche con i social con i telefonini insomma si può si può comunicare bene con tutti gli amici o altri quindi come si diceva ieri ecco manca molto essere presente però ecco insomma i mezzi di oggi facilitano molto di più ecco mi immagino che 40 anni fa deve essere stata problematica per chi aveva la sventura di essere fuori da siena per il padre essere stati a siena però ieri sera non vuol dire aver visto che cosa è successo al cavallo della civetta la caduta di walter puscedo detto biglino che poi si è rialzato io quello l'ho visto bene si è rialzato a san martino ed è uscito poi da dalla pista il cavallo questa mattina non ha partecipato alla prova e stasera l'equipe veterinaria visiterà la stalla e deciderà se è il caso di farlo tornare in piazza o seppure di come dire esentarlo ancora dispiace molto per la contrada per walter puscedo e purtroppo sono cose che accadono sì io guardavo un po di foto guardato qualche video e non si vede esattamente bene la dinamica iniziale che da via la caduta però può succedere il risuccesso nel passato è chiaramente con le regole tra virgolette degli ultimi anni diciamo ecco mi sento di dire che se stasera la scivetta non corre una prova penso che non correrà nemmeno il palio perché perché è così purtroppo sicuramente non c'è niente di grave ecco però poi dopo se dovesse succedere qualche cosa tutti si attaccherebbero a questa caduta e quindi penso che guardiamo stasera che succede però sì è ovvio c'è massima attenzione alla salute dei cavalli sappiamo noi sappiamo quanto Siena ci tenga e bisogna anche farlo capire fuori e per questo si sono strette anche le maglie no sulla sulla sicurezza aspettiamo stasera per il resto invece ci sono state altre due prove una pantera che in partenza è velocissima sì non solo la pantera sta costruendo secondo me una coppiata dal palio ecco devo dire che ad oggi veramente è una contrada che ha dimostrato di poter dire la sua il giorno del palio il cavallo parte benissimo fantino e cavallo secondo me hanno stretto un ottimo feeling manucci lo vedo anche cresciuto più sicuro di se stesso ma anche concentrato e la contrada credo in questo la usi perché insomma non c'è avversaria e non hanno delle pressioni da primo cavallo quindi stanno lavorando bene e non potranno non essere protagonisti ecco domani sera ecco e poi sì e poi ieri se non sbaglio che è stato ieri sera si è vista una piccola scaramuccia tra i canali tra lupa e istrisce beh che chiaramente ecco lascia presagire il fatto che se si dovessero trovare accanto per il palio sicuramente alla mossa non non faranno finta di niente ecco e in corsa entrambi sono capaci per lo meno lì inizialmente di 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 trovarsi andare a andarsi a cercare avevo visto anche le prime prove che un'altra osservazione ho visto il canape che stamattina no però nei primi giorni tendeva molto a a a essere trascinato dai cavalli complici anche delle partenze abbastanza irruenti però ecco spero che facciano qualche cosa non so se devono bagnarlo ancora di più o altro però però questa è una cosa ecco che chi ci pensa l'avrà sicuramente notato e il canape ricordo anni fa ci fu proprio tutta una polemica e facciamo un'intervista all'ingegnere che si occupava di tutta l'organizzazione del palio e spiegò che insomma non è che c'era bisogno di grandi tecnologie era solo un fatto di bagnarlo più o meno perché essendo un materiale ehm che 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 si modifica a seconda dell'umidità eh ha una reazione anziché 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 un'altra il mossiere eh che è entrato in corsa perché sappiamo che il mossiere quello che era stato scelto dai capitani si è ritirato per problemi personali beh Bircolotti diciamo che è il primo la cosa da notare è che il primo mossiere penso della storia del palio di Siena che viene preso dagli altri pali ecco perché solitamente Siena è andata a pescare sempre persone che che gravitavano al di fuori di qualsiasi altro di qualsiasi altra forza di cavalli e invece questo ecco si è venuto un fatto contrario alla alla normalità è sicuramente una persona di grande esperienza conosce tutti i fantini conosce bene i cavalli non sapremo questo sia un lato positivo o negativo per il palio in sé per il palio giocato ma per il suo lavoro di mossiere sicuramente dà delle garanzie all'amministrazione comunale per ora l'ho visto eh molto a causo attento chiaramente perché c'è stato un abbassamento due durante le prove o altro che è stato rivela ecco l'occhio e una particolare attenzione nel dare la rincorsa eh mi sembra a parte un paio di episodi in cui i cavalli sono stati proprio alberrocchino tende ecco a sgangiare un attimo un qualche momento prima che il cavallo oltrepassi il berrocchio e poi non lo so sarà l'emozione o altro ecco però o forse sarà anche l'audio dei filmati che vedo però sento la sua voce abbastanza bassa non so se è l'emozione o altro però ecco io credo che domani se era un po' il tono della voce doveva alzarlo perché comunque ehm l'autorità che il mossiere deve averlo deve avere la rileva anche ogni tono di voce che è sempre importante ecco sì effettivamente ti posso dire che anche da piazza il mossiere non lo sentiamo quindi probabilmente ha un tono di voce che che non è così prorompente come magari ne hanno avuti altri altri mossieri negli anni scorsi magari domani cambia tutto perché domani poi si gioca molto sulla psicologia dipende quanto dura la mossa perché come ha raccontato Gigi Bruschelli nell'intervista che abbiamo fatto ehm insomma è un fatto si gioca molto sui nervi bisogna avere nervi molto saldi non farsi prendere dall'ansia da dalla paura ed è umano che invece possa accadere non non per il mossiere per tutti eh sì sicuramente si riferisce al suo figlio e al collega nell'istice perché comunque sono i due eh se la civetta non corre chiaramente la questione di nervi si gioca tra quelle due contrade e ripeto non possono non eh non far finta di niente se si ritrovano vicini perché eh sennò passerebbero dei guai anche incontrata eh e quindi sarà sicuramente una questione di nervi e di chi manterrà eh i nervi saldi appunto e è una cosa che può coinvolgere poi chi è accanto eh ci sono dei cavalli che eh che ho visto che comunque tengono bene la posizione anche se un po' infastiditi e altri invece che che potrebbero subire dei danni ecco eh eh sì sì domani cambia tutto chiaramente l'ordine di mossa come è sempre importantissimo eh può avvantaggiare o svantaggiare e e auguriamoci eh di non vedere una mossa estenuante ecco per i nostri cuori anche non siamo abituati due anni di stop hanno capito fatto rilassare anche 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 la grande adrenalina che si prova in quei momenti senti chi è che si nasconde perché ieri ci hai detto quelle che secondo te sono le favorite non so se li confermi o se dopo una giornata insomma altre due prove eh cambia idea e chi invece si sta nascondendo se c'è nascondersi eh diciamo che ehm sia il drago che la che la torre non hanno non hanno fatto delle prove esaltanti come hanno fatto altri e hanno avuto un atteggiamento molto più causo ehm anche giusto e sono due contrade che ecco se si può dire nascondersi eh si potrebbe si potrebbe indicare loro ehm lo stesso all'istrice ecco perché non ha mai provato ehm degli spunti importanti ha provato la partenza e va bene però per un fantino anche se anche se titolato di grande esperienza fare una curva o due a a a velocità sostenuta è importante importante perché soprattutto San Martino perché domani sera non si scherza più e quindi tutti tutti devono dare la via e se uno non l'ha fatto prima eh non è sempre detto che sia capace ecco voglio dire noi siamo stati abituati negli anni spesso dove Gigi Bruschelli che nominavi prima era molto bravo in questa a nascondersi perché a lui bastava solo dei pezzettini però non tutti sono Gigi Bruschelli e quindi chi non l'ha fatto eh boh eh se domani è dalla via magari può avere paura a un certo punto ecco non lo so e quindi eh il Locorno che fino a ieri quando ci siamo sentiti eh non aveva mai provato ha fatto due prove comunque con dei galoppi sostenuti può andare bene il Montone nonostante nelle prime prove si sia sempre fatto vedere nelle fotografie però ecco non è che ha dato la via molto al cavallo ecco e sulle previsioni è giusto e ci sono giusto un aggiornamento io direi ecco che decisamente le quotazioni della Pantera salgono e vanno messe tra le contrade che possono dire la loro e sicuramente può esserci anche la chiocciola perché comunque eh Giuseppe Zed sta lavorando con molta professionalità ecco non è un cavallo facile per piazza eh non ha esperienza eh però lui sta lavorando molto bene ehm è lo stesso Giovanni Arzieni ecco sia per il nome per la scelta che ha fatto e per la contrada non può non essere eh considerato senti ehm visto che sei stato capitano e quindi eh hai ben presente che cosa accade in questi giorni eh visto da fuori si parla delle prove si vede sì quel cavallo sembra andato bene poi l'altro meno eh poi il giorno del palio magari certi pronostici non si concretizzano eh quanto è importante appunto per un capitano vedere il cavallo ci si affida direttamente al fantino e quindi eh scelga lui se provarlo o meno o o è bene invece dirgli no guarda fammi vedere stasera questo eh questa è una bella domanda e beh intanto bisogna vedere il capitano quanto si intende di cavalli e e che tipo di supporto tecnico all'interno della propria contrada ecco eh poi dipende dal fantino perché ci sono dei fantini e comunque con tanto così tanta esperienza che ehm magari certe volte è meglio assecondarli però io dico in a livello generale ecco eh ci deve essere certamente una complicità perché se il capitano chiede a un fantino di provare il fantino non prova insomma eh o trova delle giustificazioni eh una prova e dopo un'altra di dire ma stasera ho trovato vista contrada nel mezzo domani per l'altra insomma ecco eh un tempo le prove si usavano per provare il cavallo ma anche per provare il fantino e e quindi è molto importante che un fantino faccia quello che il capitano gli chiede e chiaramente prima della scelta si pensa che alla base ci sia una fiducia tra i due ecco perché se se poi manca casino quindi in generale in generale dipende molto dal fantino e ecco e dal feeling che crei però eh oggi rispetto a tanti anni fa oggi ogni ogni contrata diciamo abbastanza un supporto tecnico importante dalla stalla da 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 personaggi hanno vissuto all'interno del mondo del palio che comunque sono di un notevole aiuto ecco se si vuole ascoltare se si vuole ascoltare ovviamente e noi ti ascoltiamo volentieri e torneremo a farlo domani alla vigilia della corsa per eh così le riflessioni finali e per eh fare qualche pronostico azzardare qualche pronostico ovviamente proseguiremo il giorno dopo per eh il commento a quello che è stato eccetera eccetera Michele grazie e passa una bella giornata grazie a voi ciao arrivederci a domani ciao ciao